Allora, dite più qualcosa. Eh, siamo qui. Cinque anni sono passati da quando il caro amico Max si è benvenuto per i fatti suoi. Lasciandoci orfani e soli in un mare di casino. Un mare di casino, giusto. Che ci ha lasciato gentilmente. E noi abbiamo molto apprezzato tutto ciò. Ci hanno lasciato un sacco di cose interessanti. Peccato che siano praticamente irraggiungibili. Come sempre. Come sempre. Possiamo dirlo sinceramente. Per quello che mi riguarda, io mi rendo conto che Massimo è stato qualcosa che mi ha coinvolto in qualcosa in cui non avrei mai voluto essere coinvolto. E ci è riuscito. E vabbè, stavo ancora qui cinque anni dopo. Vabbè, signori miei, arrivederci. Vabbè, stavo ancora qui. Vabbè, stavo ancora qui. Vabbè, stavo ancora qui.